Sei stato, come dire, forse più vicino dal punto di vista proprio del cinematografico? Ti hanno definito anche dei re dei giorni? No, forse più vicino no, più vicino no, perché sei stato più vicino a Sonico, Amidei. Parlo degli attori e non degli sceneggiatori. Io diciamo che ho avuto 15 anni di tempo, di 15 anni che l'ho frequentato. Per 15 anni siamo stati molto molto amici, poi ci siamo rivisti in qualche occasione, eccetera. Però a 15-16 anni ci hanno visto insieme come amici che andavano la sera a cena, sempre allo stesso ristorante a Puleius, sempre allo stesso tavolo, sempre a ordinare le stesse cose. Era di una monotonia stare con Alberto Sorri. Però lui amava stare con 4, 5, 6 persone, non di più. C'era Rodolfo Sonego, quando gli andava ad uscire, c'era Ettore Scola. Eravamo pochi, pochi, pochi. Il musicista famoso, Piero Piccioni, ma eravamo poche persone, frequentavamo poche persone. Sordi in casa era una persona completamente diversa da quello che il pubblico poteva immaginare. Lo vedeva in pubblico e lui si dava a tutti con quella sua risata contagiosa. Era espansivo, simpatico, sempre con la battuta prontissima. Dentro casa si trasformava in un monaco. Era una casa austera, austera da anche la luce, perché io sono andato anche qualche pomeriggio da lui a lavorare. Più che altro la sera andavo da lui, però qualche pomeriggio è capitato e le serrande erano abbassate. Io dicevo, ma con tutta caracalla di fronte alle cose. Lui mi ha detto, no, perché la luce dà fastidio ai quadri che mi rovina. E dico, vabbè, ma che tasa hai comprato a fare la casa qua? Dico, se non vedi la bellezza di Roma. Dico, questo è il re Spighi, gli ho detto, sono i pini di Roma. Dico, ma la devi vedere. No, no, Apolloni mi ha detto che se sto quadro mi faceva vedere un quadro enorme. Prima luce mi si sbiatisce, quindi prisco di no. Ho capito che lui viveva quindi in una completa... Lui era molto discreto con le sorelle ed le sorelle erano molto discrete con lui e c'era tanto silenzio. Era una casa silenziosa. È strano dirlo di Alberto Sordi, che era un cacciarone nei suoi film, ero corroico. In casa era un'altra persona. Un'altra persona. Io, personalmente, non voglio sostituirmi ai critici che hanno detto delle cose giuste, belle, interessanti, però voglio dire una cosa, che secondo me è stato sicuramente un attore gigantesco. Gigantesco perché? Perché è stato all'inizio della sua carriera assolutamente rivoluzionario. Ma chi avrebbe mai fatto, in quel periodo, nel periodo in cui nasceva, non solo nel teatro varietà, ma anche nei primi film, no, Sheikko Bianco, mamma mia che impressione. Cioè, quei personaggi così fuori dalle regole dell'accademia. L'accademia impostava gli attori in un certo modo. Vedi Mastroianni, vedi Gasman, vedi cose, e poi dopo loro trovavano una verve loro, una chiave loro per fare... Ma Sordi, in realtà, era di un'avanguardia assurda, perché era folle. Chi avrebbe mai fatto quello che ha fatto lui? Aveva dei tempi di recitazione che erano incredibili. Non rispettava le pause, montava sopra le battute degli altri, ripeteva spesso le battute degli altri per ritirarne fuori un'altra battuta. Ha fatto dell'avanguardia, era un attore futurista quasi all'inizio, veramente. Poi, come tutti i grandi innovatori, come tutti i grandi avanguardisti, è finito nel conservatorismo proprio più assoluto, con gli ultimi film. Però glielo possiamo concedere. Ha fatto lo stesso tragitto di Giacomo Balla. Ha cominciato con la pittura dinamica e è finito a dipingere le amanti. normali, sempre bei quadri, però la moglie, l'amante, non lo so. Io c'era uno che suppongo che sia un amante di balla. E si finisce così. È il destino. Vedi anche Charlie Chaplin cosa ha fatto e i suoi ultimi film sono dolenti in qualche modo. Ma probabilmente, e anche l'età, è nella natura dell'attore finire così. È nella natura di tutti, nella natura di Fellini, nella natura di Orson Welles. Anche Fellini, col silenzio della luna, la voce della luna, è un Fellini che non capisce più il mondo in cui sta vivendo. È un Fellini che fa difficoltà a capire i giovani. In una delle rare telefonate che ci siamo fatti nell'ultimo periodo, per dieci giorni ci siamo telefonati la mattina. Poi lui si è ammalato e non ha avuto più questo privilegio di ascoltarlo. Siccome io dormivo poco, lui dormiva poco, quindi mi diceva, te posso rompere i coglioni alle sette? Io dico, ah ma quando vuoi Federico alle sette va bene, io ero in piedi alle sette. E c'era sempre un mezz'ora, tre quarti d'ora di chiacchierata sul mondo di oggi. La stessa cosa la faceva sordi ed entrambi, sia Fellini che sordi, avevano una grande difficoltà nel capire dove stava andando il mondo, dove stava andando la città, dove stavano andando i giovani. Quindi era straziante anche come cosa, perché cercavi in qualche modo di spiegarglielo, ma era difficile, era veramente complicato. Quindi erano figli di un altro tempo, sicuramente di tempi assolutamente per me migliori dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista della creatività. Non che oggi non ci sia, però insomma c'erano degli autori dal punto di vista letterario, dal punto di vista cinematografico, che stavano raccontando una realtà che alla fine con tutte le sue magagne era un po' più seria, ecco. Non che oggi si facciano dei brutti film, perché in realtà ci sono anche oggi dei buoni film, però... Grazie. Grazie.